si va ma la vita resta a 60 per danno grave quello purtroppo dura un po aspetta che butto questo è il cheofano hai tipo buttato per terra che vedo tipo per terra lo sai quante volte convinto bom me ne vado andiamo carica macchina andiamo pari in base ma roba e te ne vai così la scicata roba a posto andiamo ma come andiamo si vedi perché qua proprio all'entrata c'erano le riviste e c'era il cibo e la benzina prima mi scordo do star simboletto da benzina eccolo qua non ho preso la matita perfetto vabbè non fa niente non mi ricordo dove sta ottimo ma sto per di vita si ho perso 10 di vita ma che davvero controlla della vita è bendata tutto a posto qui sotto di noi c'è il benzinaio che cazzo era esplosa una rota no sto a morì come stai a morire inguine lacerato e non c'è niente qui che cazzo hanno preso e non lo so questa volta non sono riuscito ma che cazzo orvi aspetta 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 fammi scendere fammi scendere io so ste cose che odio adesso gioco ma mi sa che c'è tipo che sposa una rota perchè ho sentito un chioppo eh si anch'io ma porca puttana e allora abbiamo preso qualcosa che non ci dovrebbe essere ma c'hai uno straccio eh strappo la maglietta tanto non no ok ok è sporco ce l'ha pulito te ah aspetta intanto ti metto questo per sanguinamento 29 di vita ah intanto l'ho bloccato quantomeno per il sanguinamento che c'hai è il laccio quello tipo l'accio emostatico come si fa a fallo? no l'ho trovato ah ma guarda davanti a noi che c'è sta si un po' sul tappeto grazie mi grazie sul tappeto così lo senti il rumore? si che cos'è? è il taglia erba ah come il taglia erba? eh senti il rumore che sta tagliato eh ah e cavolo ma eh fuori ci sono i jardinieri che stanno deposto è pare che ce l'hai dentro casa però allora qua c'è un altro carrello c'è un altro veicolo e c'è un fur... un coso eh questo è un furgone o per l'acqua o per la benzina aspetta un attimo ma io mi posso teletrasportare da te? sto qua vicino a me perchè dovresti teletrasportare da me? perchè probabilmente duro poco ancora si si in realtà si dovresti poter... ah teleport si 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 perfetto perfetto si guarda i giazze dei giazze dei sangue che ci facciamo ma quindi è esplosa la ruota? no abbiamo preso qualcosa che non c'è un muretto invisibile oppure oppure l'airbag perchè è esploso tipo l'airbag aspetta e come? ecco perchè qua l'airbag è... pure airbag a sinistro ah no front left quindi no front left è mio pensavo che magari te l'hai esploso tipo l'airbag in faccia è riferito all'inguine però allora qui tutto dritto sulla sinistra si troviamo ehm... occhio che se sappiamo qualsiasi cosa io penso in modo sul corpo sto giro eh qua a sinistra c'è... madonna i zombie tocca occhio zombie esplosivo questo è il coso questo è il coso ok ecco qua il fossoio però vado avanti cazzo so si si beh ma noi andiamo al supermercato prima si ma lo zombie esplosivo che effetto c'ha sulla macchina? eh non c'ho idea che se la distrugge solo bene se ti ammazzo a te dentro no non credo perchè sto perdendovi? io non capio io non riesco a capire continua a perdere vita? si eh forse la penso... ma che cazzo? che è successo? guarda quanti sono guarda quanti sono guarda quanti sono 13 13 riesci a allontanarti almeno ti ricarichi per cadà aspetta provo a scarica tutta la roba mia macchina perchè tanto stiro ma quello è perchè sicuramente perchè non hai... suturato la ferita profonda cazzo questo non la mosca vabbè sto mettendo tutto in macchina sto mettendo tutto in macchina si 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 vai vai c'erano un... c'erano un... guarda com'è laggaaa ok qua è un po' più tranquillo stava a pensare ma... se scendo mi metto a cuore da una parte e li attiro tanto sto... tanto so... eh tanto so... so praticamente morto vada non pensi a me aspetta i chiavi c'ho io no che chiavi no no io non ce sta vai 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 urla urla portatevi via eh l'ho tolto il tasto di urla mi devo far vedere no come ne vuoi chissi no no sai a volte che lo toccavo per sbaglio che era Q eh si si no ho tolto guarda quanti cazzo so... cioè non ce ne erano così tanti nemmeno la prima volta adesso uno ti può pulire eh vai vai io li sto portando a giocare nel parco eh eh ma che poi mica ha detto che moro cioè alla fine c'era pure riesca scappato a cergire se riedevo su strada si mi invito fortemente però da te non ci stanno stanno tutti qua eh si c'era lo zombie esplosivo vicino al full soil però si non è proprio non è proprio un luogo adatto no 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 lo allontano però almeno se riuscissi a far fuori a portarmene dietro parecchi non sarebbe male eh oh uno è entrato venite venite porca puttana ma non ho raggiunto eh mi è morto no eh vera era chiamata eh si si sono tornato operativo allora sta roba marcia sarebbe da la mettere qua nel compost si per il compost allora fantastroberry c'è dato marcia eh guarda gli scaffali questi qua grossi li ho guardati tutti eh sto all'ultimo proprio ok eh io sto a prendere ci stanno tutte bibite nei frigoriferi eh si quelle si sono buone non finisce l'acqua maccheroni riso una roba per fare i tortillas maccheroni di nuovo ok qui c'è la carne ma guarda le riviste qua marcosina c'è e queste non le abbiamo lette per lo meno io non le uh mappe ma mappe di tutto praticamente oh buono io l'ho lette io quelle che abbiamo a casa l'ho lette tutte quindi se qua non se non trovo un giro che non l'ho lette guardi che dove stai? eh le mappe sto in basso qua c'era c'era la roba pure nel magazzino porca miseria qui ho voglia mangiare non riuscivo manco a piazza di urto per quanta roba c'è non ci abbiamo spazio a casa per tutto ah no guarda se ce l'abbiamo in macchina a casa sicuro no la cassa del latte grande però sicuramente sarà è andata male ok beh dai qui ci si può tornare a prendere l'altra roba quando servirà perchè si si ma stiamo da paura sono pieno roba stantia ma andiamo usata subito intanto quella poi dove stavano le riviste? alla prese? eh ce l'ho tutte io addosso si muove in macchina vabbè si mettiamo in macchina io no in realtà io ho 85 di fatica sono tipo stanchissimo tocca tocca arrivare ad andare a dormire ok ok aspetta qua ci stanno una ciotola di guacamole e una bottiglia di roba tipo proteine svuoto tutto così eh no sono marce però se svuoto tutto ripetiamo una bacinella il vasetto di porti crudo e tutta roba da guarda ti riesco a caricarmi qualcos'altro e poi se ne andiamo di corso eh perché qua adesso purtroppo tocca torna a casa svuotare la macchina che abbiamo fatto un sacco di roba e quindi la prossima puntata sarà l'aeroporto militare per forza lì e lì andiamo a fare il vero loot arli armature lì si vola altissimo perché è subito che l'hai ammazzata ah il giusto questo è un piccolo ritardo però a parte quello ok qua c'entra qualcosa eh no dietro siamo pieni che si mettono o te la tieni appresso tanto stiamo andando a casa a posare si si ho tutto tutto uno zaino ok aspetta chiudo il cofano oh oh si parte si riva oh quello c'è uno zaino oh guarda che cazzo del zaino c'è qui aspetta che si tocca ammazzarli per forza vai vai bello c'ho il personaggio appena resuscitato tutto bello pimpante questo c'ha pure il fucile oh ma non ne faccio niente ok questo c'ha pure il fucile ma io so stanchissimo vedi un po' se lo zaino vedi pure se il fucile non è scomparso uuuh ma che guarda la roba che c'ha questo si stivali buoni io c'ho ancora le scarpe normali vedi la pistola a deserticle allora intanto io mi carico roba che c'ho un sacco di spazio a deserticle ah c'è sta il caricatore e uno ce l'ho più a casa c'è il caricatore guarda che zaino piamo tutto piamo tutto così pure io c'ho lo zaino grande aspetta che metto per terra questo la fondina ti serve? eeeh no ce l'ho la fondina prendi l'attenzione a questo eh no no ce l'ho ce l'ho ce l'ho ok vabbè prendi la te riserva zaino piccolo se lo portiamo a casa non si sa mai che si può rimanere senza poi ci sono altre scarpe ah aspetta aspetta eeeh rompi rompi ste scarpe si si se le voglio sto affacuti almeno pure qua ce ne stanno altre beh amore prendo così ma tipo eeeh vedi tutti sti sti cosi come cazzo si chiamano sti gioielli te li fa riciclare ma a parte che adesso non c'ha senso perché non c'ha bianco i gioielli si poi quando fai la forgia li puoi utilizzare eh si non c'è so altre scarpe o fiammiferi scarpe t'ha fatto a scarparo qui queste pure eh aspetta mi prendo un altro po' molte le passo lo metto qua per terra si così possiamo fare il diario anche il buono il diario è buono più che altro perché ti viene in memoria di tutte le riviste che hai letto perchè se tutte le volte devi leggere tutte le altre eh io mo le devo rileggere tutte eh mo le si però una volta che tu le sei letto e segni tutto sul diario si si almeno così ok qua c'è sta niente no no eh quelli li ho controllati io non ce l'avevo ok ok a posto vai quindi qua vabbè si sono rimaste giusto due tre cazzatine si vabbè nel senso non c'è bisogno di andare a prenderci quando ci servirà ci ritorniamo si si c'è bisogno di fare la super scorta è finita occhio perché mi sta allagando in una maniera assurda mi sono ah si no a me no ma sono tantissimi si ma è sta un po' pallaggando qualche botto che venga la prima guarda 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 quanti cazzo sono guarda quello che scoppia si si ecco appena ha esploso è esploso? si quindi il fossoile se lo siamo giocato probabilmente si no non è detto magari non so quanto occhio no perché magari qualche zombie che poi va eh c'è il rischio che esplode tutto sai qual è una mod che andrebbe messa? quella che modifica il danno da fuoco eh lo sai che l'ho messa si no no qui no l'ho messa dopo che ti ho passato la lista mod perché ovviamente dopo che ti ho passato la lista mod io ho continuato a mettere mod mi sono fermato a 400 mod non erano abbastanza non era abbastanza difficile non è abbastanza difficile c'è ancora qualcosa no sì perché poi ho messo quelle che qui non ci stanno che aggiunge dei suoni quella la devo mettere degli eventi meta come anche il terremoto ma sono tutti suoni che avvicinano gli zombie nell'arraccio di dove arrivano questi suoni quindi quando passi il tempo a casa e ci stanno questi eventi meta ti spostano le orde ti spostano le orde verso la base quindi ogni tanto te li trovi l'assalto e poi avevano quella degli elicotteri mi sembra che c'è e sì quell'elicottero forse l'avevo modificata come frequenza perché cominciavano a passare gli elicotteri quelli bastardi con la musica che ti spostano le orde o quelli che ti sparano ma anche quelli che ti danno comunque ti portano i rifornimenti ogni tanto te lanciavano qualcosa il tipo fondamentale è stato quando mi hanno lanciato una cassa di cartigenica che tu dici cazzo ci fai la cartigenica e in realtà con la mod quella che devi cagare la cartigiana è fondamentale è ottima quindi le artigiani è tipo bene primario era qua? no quella dopo dopo le macchine si si do stanno le macchine le macchine lasciate così ci orientiamo per tornare a casa magari le esposto di lato ecco più che no la mod quella degli eventi meta quella delle maschere anti gas che si ricaricano non la devo le devo mettere pure io eh quella è fegata quelle si quelle le devo mettere pure io questa? si perchè c'ho l'osso rotto? che cosa è successo? perchè? perchè c'hai problematica? non sai stare seduto in macchina perchè? io immagino tipo cioè per esempio l'hai visto Grindhouse? si eh io sto tu stai seduto al sedile tuo tutto fatto bene io sto sullo sgabbelletto de ferro si si ecco due oh c'ho la vita a 74 ma perchè? perchè ti ricomposto? ma mi metto nel carrello non mette il piede fuori dal finestrino è pericoloso è pericoloso a parte qui e poi prendo prendiamo tutto ma vabbè come vi asca a caricare tutta sta roba non c'entra ah io sto full posso usare un po' di cose ma io il cibo ti direi mettilo nel frigorifero che tanto contiene 40 eh si si mettiamo un po' nel frigo e un po' negli scaffati non c'è roba che marcisce ma tanto no possiamo mettere roba anche nel 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 freezer tanto sospeso si si ok però adesso ho full pure io un po' di roba è rimasta poi mi devo mettere a fa' i gas per l'armonia ah per la pulizia delle armi non me ne ho d'accordo ma qua per te l'hai pulito tu il sangue? no ce ne hanno di più prima? se mi pare di sì qua c'ho tutte le riviste e le mappe che palle me devo rileggere tutto che ah famose subito il diario eh sì così almeno guarda se c'hai la mettete della colla il taccuino e dovresti trovare il taccuino ma il taccuino però il taccuino proprio non ce l'abbiamo si si come no dove sta? l'avevo visto l'avevo visto la speccola eccola almeno che l'avevo visto e non l'ho mai ah io conoscerò ecco l'avevo visto perchè forse c'avevo io gli inventari ah non tanto fa amor tuo va che altro c'è sto via ti avevo metto ebbè no metti tutto sì sì ma pure lì per terra in cucina eh ma l'altro sta finito ok ho messo per terra ok guarda che metallo li lascia a macchina però ma io mi ero messo con la partita mia mi ero messo mi ero schillato un sacco cucina perchè poi cercavo di creare cibi che davano tantissime calorie perchè il problema qual è? perchè a lungo andava più che altro ha cercato di resta a vivi eh quando cali depreso sotto i 75 il personaggio si indebolisce quindi fai meno danno c'è meno resistenza c'è meno tutto quindi dovevi cercare di mantenere tante calorie in modo che rimanevi sud depreso perchè quando le calorie cominciano ad andare a meno tu cominci a perdere peso e quindi era un casino era anche statente al cibo e ha cercato di non andare sopra gli 80 e non scende sotto i 75 poi il cibo cominciava a diventare un problema perchè l'inverno non si può coltivare perchè ho tolto la possibilità di coltivare l'inverno l'hai tolta con una mod o non lo facevi tu? no no l'ho tolta con una mod ce l'ho anch'io? si ok perfetto no no meglio meglio perchè sta cosa non ho mai capito perchè non l'hanno messo a default non solo non puoi coltivare d'inverno e quando coltivi coltivi poco non fai 28.000 con motorico bene ah guarda qui per terra ci ho messo il diario guarda un po' se il taccuino guarda un po' se ti fa il diario allora arrivo non mi sembra che c'erano altri taccuini però intanto uno lo riusciamo a fare aspetta che poso un attimo sta roba da manià fallo dei così lo fai vedere pure mi sembra che sta dentro una acqua il frigo è pieno tocca ripiegare c'è qualcosa nel freezer allora 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 ah cibo porca troia direi che stiamo abbastanza tranquilli eh allora taccuino l'ho preso la colla ce l'ho e strisce di cuoio ce l'ho quante ne servono le strisce di cuoio? sto pulite eh o due o quattro non mi ricordo ah lo sai che forse no guarda se lo trovi lo dovresti trovare su forse ce lo dovresti avere direttamente su generale tra le cose che si possono fare già attive eh no ma manca qualcosa come si chiama? allora Bangol come si chiamava? diario ehm forse ci serve forse ci serve lago lo sai? lago ce l'ho da qualche po' qua dentro acqua 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 ecco ah guarda un po' adesso c'ho per terra c'è un fazzoletto oppure ce l'ho io a presso un fazzoletto? un fazzoletto? si è un fazzoletto questo lo puoi utilizzare per fare un'annotazione ho messo per terra se c'è una penna devi fare un'annotazione ok eh però non può fare il diario eh tocca trovarlo un attimo quando lo ando sta e capito come si faceva generale jot down annotation ok respiratore non mi serve se io metto filtra tutto? eh si devi cercare ma non mi ricordo come è scritto no comunque devo io devo formattare il pc perchè pure si apre il no no qui ci mette proprio tanto no no ma anche l'apertura del crafting normale mese blocca tutto eh sì perché ci mette tanto da prissel ah pure a te te lo fa? eh sì perché sono le mod questo è proprio il gioco quando aggiungi le mod il crafting diventa un casino ehm no non c'è allora no fa una cosa clicca sulla colla e vai sul craft helper e lì te dovresti vedere le cose che puoi fare con la colla e ci dovrebbe sta pure il diario oppure clicca sulle strisce del cuoio se no sul taccuino che mi sa che è quello che ci può fare meno cose eh sul taccuino si è bravo allora così vedi come si chiama ma non c'è possibile ma come non c'è? ci sta per forza allora confezione stecca e sigarette 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 jet dawn annotation però non è il diario questo tutti generale ingegneria passiamo un po' vedi un po' ho messo il taccuino per terra si craft tag parca miseria perchè non c'è? sto vedendo pure sulle strisce del cuoio ma pure lì non mazza roba se può fare ehm lo devo trovare devo provare come si chiama ma non c'è nemmeno su non c'è nemmeno sul coso cacchio si chiama nemmeno sulle strisce del cuoio ma può essere che non ma può essere che non ma si bene non c'è sta a meno che non dai che hanno rimossa eh magari non magari la mod non toccherebbe da una controllata poi si perchè effettivamente no non si chiamava diario come si chiamava? non era diari era journal può essere? no vuol dire che non c'è per massimo si aggiunge dopo se si aggiunge ah si 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 non è un problema è un po' se la trovo e e e e e e e mi salvi no poi ecco vedi devo fare pure il caffè perché quando arrivi e sta in giro e tagli sta c'è la stanchezza caffettino e si continuano a passare e basta la paura e basta la paura allora mi sa che esatto hanno disattivato la moda ho andato al conflitto qualcosa perché non c'è non c'è no quando però passato perché c'era sicuro che si è vero è vero una certa l'hanno tolta eh sì perché io è vero a un certo punto non ho dovuto installare un'altra quindi si all hanno modificata quindi probabilmente l'hanno modificata o l'hanno tolta e non ho dovuto scaricare proprio un'altra io ok sempre sempre della stessa sempre lo stesso tipo ma quella che c'era non funzionava più quindi quindi sì non c'è non c'è al cento per cento non c'è io sì sì ce l'ho nel mio letto vediamo qual è ok beh dai è andata bene è andata benissimo siamo morti pochissime volte una volta per uno una volta per uno sì sì no io sono morto due volte è che sono morto un macchia non si sa come poi mi devo rivedere il video perché è vero no io mi ricordavo non mi convincono perché mi sono allontanato un attimo senti almeno te posso di e poi vedrai che noi effettivamente siamo andati a sbattare qualcosa io no pure a te uguale no 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 tu sei morto perché siamo andati effettivamente a sbattare macchine ma io ok non lo so coccolone forse boh non so forse attraverso uno scogliatto mentre giravano qualcosa abbiamo preso ah non lo so no però nel veicolo ce l'abbiamo e il cibo ce l'abbiamo buono qualche arma c'è possiamo andare all'aeroporto militare a fare il vero luce le vere armi le vere le vere protezioni le vere armature no a sparagliotiche no a sparagliotiche non lo so ci abbiamo qua scassinatore col parkinson no autista cataratta no io ho detto vabbè a sparagliotiche porca miseria spara ripetizione dai c'è santo iddio almeno spara dritto no o però c'è stata da dire che se stava arrivato uno orda l'avevi presi tutti eh perciò era uno solo davanti a te non l'hai preso ma perché siamo fortunati che il gioco è isometrico perché sennò sparavo per aria come minimo sparavo per aria o mi sparavo sui piedi mi fissavo al terreno che su zonvoid potrebbe essere quasi ci potrebbe stare come malus dell'arma non te se inceppa ma te te inchiodi al terreno e ti impedisci la fuga ci stanno no ci stanno i tratti mio perché in realtà vedi male proprio tu nel gioco senza gli occhiali se ti vodicatono gli occhiali vedi male vedi sfocato perché la gente proprio piace farsi del male su questo gioco c'è quello cieco sordo eh sì se stanno idrati quello c'è la turetta c'è quello c'è la turetta che si e stai a fare tutto defilato e non fate dei zombie mannaggia la puttana mi sentono tutti e te parto alla lino bar che cazzo me ne frega me però sarebbe da fare sarebbe da provare a farsi i personaggi con tutti i tratti negativi eh sì sarebbe divertente sarebbe divertente una sfida tosta cazzo sarò la tosta tutti i tratti negativi ci devo provare non c'ho mai provato non c'ho mai provato project zomboid K104 run progetto poi 104 ah ma 104 mod no 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 non c'è un po' di K104 non sarebbe male ci devo provare ci devo provare vabbè dai la prossima volta che moriamo mettiamo qualche tratti se fanno i personaggi con i tratti negativi anzi no facciamo così facciamo così visto che c'è chi ci sta guardando chi sta guardando questo video alle prossime morti che accadrà e sicuramente accadranno diteci quali tratti negativi dobbiamo inserire ai nostri personaggi perché ogni morte ci deve da un malus come una punizione eh giustamente tanto il gioco è facile quindi tanto il gioco è facile aggiungiamo le difficoltà ma sì ma sì se no è troppo facile se no visto arrivi subito ci sta ci sta la possiamo fa così oppure potremmo fa perché se moriamo in presa diretta è quello quando faremo la live quando arriverà la live eh dobbiamo fare la live su zoom boy porca miseria facciamo tipo la ruota dei malus la ruota dei malus bellissima giri la ruota e vedi che te capita bellissimo beh se no ti facciamo votare a gente in chat ah sì 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 bello bello e va a finire malissimo ovviamente sicuramente male ok allora noi vabbè stiamo a casa stiamo tranquilli tranquilli non c'è problema il nostro l'abbiamo fatto morì siamo morti resuscitati siamo resuscitati a posto perfetto è andata benissimo tutto sommato la prossima volta si fa sul serio tanto noi ci siamo preparati poi mi metterò pure a costruire qualche qualche barricata qualche cosa a casa tipo raccogliere dalla pioggia ok e poi si bisogna andare qualche casa però adesso no poi serviranno delle casse ci dobbiamo prendere delle casse casomai all'aeroporto proviamo a andarci con il calcio in realtà le casse ma le casse quelle per per metterci la roba per metterci la roba sì allora non so se sulla mappa eh non ci siamo andati dove prima noi siamo siamo praticamente davanti a noi cioè uscendo dalla via sulla mappa principale se continui dritto se ci fai caso andando andando verso il quartiere quello lì brutto e cattivo eh subito dopo casa nostra c'è una strada che va a sinistra alla fine di quella strada là c'è un magazzino abbandonato pieno di casse vuote ovviamente ah perfetto allora a posto pieno 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 di casse dove andarle a prendere sì sì possiamo fa possiamo fa scorta facciamo scorta di casse ottimo ottimo ok io direi che ci possiamo fermare ma anche perché da sta registrazione due episodi sicuri escono sì buono sono tre ore di registrato quindi eh beh sì porca miseria direi 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 due episodi ci rengono fuori buono decisamente sì ok allora ragazzi io ovviamente lo sapete per il nuovo come al solito tanto in descrizione trovate il link per il canale di patricain seguitelo anche sul canale viola che ancora non ho capito se si può nominare o non si può nominare ma nel dubbio sul canale seguitelo sul canale che inizia con ti e finisce con strega ecco perfetto così almeno potete trovarlo lì potete trovarlo lì padre io ti ringrazio come al solito grazie a te grazie a te ci vediamo per la prossima run e poi iniziamo a pensare pure alla live eh chissà magari la prossima run sarà la live che lo sa potrebbe essere anche perché live verso l'aeroporto militare potrebbe essere una bella live poi magari nel frattempo esce la build 42 e niente è stata a camarca però possiamo possiamo dire facciamo così facciamo delle anticipazioni però così misteriose misteriose quando uscirà la build 42 succederanno cose uscirà anche succederanno cose succederanno cose si apriranno cose grandi cose sì 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 misteriosa lasciamo così questo succederanno belle cose sì sì diciamo che pur non sapendolo un po' tutti avete un motivo in più che spera che esca al prima possibile la build 42 speriamo speriamo sì 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 sarà questione di poco sicuro all'improvviso quando me lo sa aspettiamo e ci infilano la build 42 proprio magari mentre stai a giocare a queste dici bello non vedo l'ora che fa la prossima partita uscirà la build 42 e ti putta a tutto magari esce mentre monto il video eh capito per esempio vediamo vediamo che sorpresa ci fanno sopravvissuti noi ci vediamo alla prossima ovviamente come al solito ricordatevi di iscrivervi al canale se lo avete ancora fatto lasciate un bel commento un mi piace che fa piacere a me fa piacere l'algoritmo fa piacere a voi e fa piacere pure a Padre Cain quindi ovviamente fa piacere a tutti sopravvissuti noi ci vediamo alla prossima bua soravvivenza a tutti ciao 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 Grazie a tutti